Nella giornata di ieri è diventato virale su TikTok Un video di Gaia Bianchi Che litiga con un barista Perché appunto quest'ultimo Mentre era lì a chillare con i suoi amici Maranza Gli spruzza l'acqua con una pistola d'acqua Lei lo va a cercare Ma il ragazzo era chiaramente scomparso Resosi conto di averla fatta incazzare Vi lascio quindi i filmati Fatemi sempre con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video Linea lo studio Fortissimo Fortissimo